Rosarno, si pente l'avvocato dei Cacciola, clamorosa decisione dell'avvocato della famiglia di Maria Concetta, la donna morta suicida che accusò il bellocco e i suoi genitori. E' Vittorio Pisani, il nuovo collaboratore di giustizia, che ha deciso di lavorare con i magistrati dell'antimafia regina e fare luce su uno dei casi di cronaca più atroci degli ultimi anni, la morte dell'ex testimone di giustizia Maria Concetta Cacciola. Pisani è stato condannato a 4 anni e 6 mesi perché è ritenuto responsabile di violenza privata sulla giovane di Rosarno, aggravata dalla modalità mafiosa. La giovane donna, secondo gli inquirenti, fu indotta proprio da Pisani e dall'avvocato Gregorio Cacciola a registrare un nastro in cui smentiva quanto riferito ai magistrati nel periodo di collaborazione.